Vitto a me nanno della scrivania, n'escero non s'accio quanto vecchie carte, leggerle tutti e metterne in sparte talone in una vecchia libreria. Ma con tanta premura e con tanta arte, con tanto affetto e tanta gelosia, che appena della porta gli giuniscia, vuosi leggere io pure la più parte. Erano vecchie lettere amorose, e io leggevo quando i sannolotti vi talonanno. Fece mille scuse, e io mi ammenazzò con lo bastone e poi c'è dentro di sé scarabocchio di gioventù e tolto la cremone.